Allora buonasera signore e signori e eccoci a quella che in realtà di fatto anche se è la terza da un punto di vista contenutistico è la seconda lezione del corso di psicologia generale per il PF24 e oggi come vi avevo anticipato tratteremo un tema che è un tema assolutamente essenziale, assolutamente cruciale per comprendere la psicologia di oggi, la psicologia del XXI secolo ma anche del XX le scienze cognitive e tutto quello che intorno a questi poli concettuali si articola come campi del sapere e in questo ne sto riferendo a questioni legate per esempio alla pedagogia, a questioni legate alle tecniche didattiche dell'educazione ma anche ad esempio all'intelligenza artificiale per moltissimi aspetti. E sto parlando del sistema nervoso, cioè io penso che sia fondamentale ribadire una cosa che è la seguente, non si può prescindere dall'importanza della struttura e della funzione del sistema nervoso per comprendere quella che noi chiamiamo mente, la psiche. Ora, detto questo, che mi sembra doverosissimo, devo anche però fare un piccolo caveat perché qui c'è una questione importantissima, cioè siamo su un terreno scivoloso in cui si possono avere due tipi di generalizzazioni che sono entrambe sbagliate e che dobbiamo sempre comunque tenere a mente perché ricordiamo, ce l'abbiamo detto nelle lezioni scorse, una psicologia sottintende sempre una certa idea dell'uomo. Allora, da un lato bisognerebbe evitare le generalizzazioni di tipo romantico. Una volta Lessi, una persona che iniziò una tesi, era in commissione di laurea, che iniziava dicendo, quell'incipit era, abbiamo più neuroni nel cervello di quante stelle ci sono nella galassia. Cioè, io lo so, a me è sempre un po' una cosa così, quando mi sembra sempre una caption delle foto di Instagram, no? Mette sempre quella cosa, il cielo stellato sopra di me, la leggemo, guardate dentro di me, usata completamente a caso. C'è da dire che noi, in qualche modo l'abbiamo già affrontato quando abbiamo parlato delle dissonanze magnetiche, noi viviamo in un mondo che ha una terribile fiducia nei confronti del valore conoscitivo delle neuroscienze, no? Quindi, questo cervello che sembra essere in grado di spiegare tutto, il cervello dell'amore, il cervello che legge, il cervello che sente la musica, il cervello che prova invidia. Ecco, questa è la superficie di una problematica più grande, di una generalizzazione indebita più grande, che è quella che viene chiamata normalmente neuroessenzialismo. neuroessenzialismo. Cioè, il cervello è fondamentale ed è necessario per comprendere cosa è la mente, ma il cervello non è la mente. Come cercherò di spiegarvi oggi, la meraviglia di questo organo, che io ritengo essere uno degli organi più belli, oltre che complessi, dell'intera fisiologia umana. Se si pensa che è stato creato e plasmato dall'evoluzione per situazione naturale, come dire, si trova già tutto assolutamente quello che è il miracolo della natura, senza alcun bisogno di miracolino, in un organo, sì. Dato che la sento un pochino male, si può parlare un pochino più piano? Hai ragione, ci proverò, però tu ricordamelo nel caso, perché io ritengo a partire un pochino. E scusa se ti do del tu, adesso scusa se ti do del tu, adesso scusa se ti do del lei. Bene, stiamo già rovesciando tutte le regole. Allora, vado più piano, e vi dicevo, il cervello è un organo meraviglioso, ma è meraviglioso perché? È speciale? C'ha delle cellule, è fatto con cellule speciali? È fatto con una sostanza fantastica? No, è speciale per un motivo solo, e alla fine di questa lezione dovrebbe esservi chiaro come fa a fare quello che fa. Cioè, è in grado di costruire un sistema di funzionamento aperto. Che vuol dire un sistema di funzionamento aperto? Pensate al sistema per eccellenza dei mammiferi, dei viventi in generale, in particolare prendiamo i mammiferi come classe, il sistema cardiocircolatorio. Il sistema cardiocircolatorio, che è un sistema fantastico, no? Meraviglioso, questa pompa fantastica al centro, questo sistema di cambi e di ricambi, di diverse circolazioni, è un sistema chiuso. funziona all'interno del corpo per il beneficio del corpo. Stessa cosa possiamo dire di tanti altri sistemi che eventualmente, sì, possono avere un'apertura nei confronti dell'esterno, penso al sistema orogastrico o il sistema sfinterico o renale. Nel senso che a un certo punto o fanno entrare qualcosa o fanno uscire qualche cosa. Il cervello mette, costruisce un circolo, costruisce un sistema con il mondo esterno. E questo sistema che il cervello costruisce con l'ambiente intorno a sé, che il sistema nervoso costruisce con l'ambiente intorno a sé, nella sua interazione è quello che chiamiamo comunemente, che è un po' trivialmente, la mente, l'accadere psichico, la psiche dell'essere umano. E questo lo vediamo, per esempio, in ogni tipo di pensiero. Quando penso a qualcosa, penso a qualcosa che sta fuori di me e che però in qualche modo ho saputo introiettare. Io se penso a che cos'è un albero, un albero è un concetto anche molto vago, no? Penso a parlare di un pino, di una bete, di un bonsai, di una pianta di mirto, quando è un arbusto il mirto. Però io riesco a concettualizzare, a partire dall'esperienza di tanti alberi che ho visto, un'idea che è l'idea di albero. Da dove nasce la mia capacità di categorizzare il mondo? Nasce dall'incontro tra un certo tipo di organo, un certo tipo di sistema, che è il sistema nervoso, e l'interazione con l'ambiente circostante. Il fatto che operazioni così complesse, che già sono complesse semplicemente così, che poi si possono andare a sommare, no? Per esempio, pensate a un'attività tipica del mondo mentale, il sogno, che studieremo nel dettaglio. Quando sogniamo, c'è quella strana logica del sogno, ricominciamo a rincastrare, a rimpastare cose che sono successe durante il giorno di veglia, significati profondi delle nostre istanze psichiche più inconsce, elaborate, con degli strani linguaggi. Quindi, ecco, tutto questo noi lo riusciamo a fare grazie a una specifica modalità di funzionamento e una specifica architettura di un organo che pesa all'incirca poco più di un chilo, spugnoso, e che fa anche un po' schifo. Se fossimo stati in aula ve l'avrei fatto vedere, perché mi avrebbe fatto piacere farvi vedere come è fatto un cervello, anche per farvi capire le difficoltà che ci sono nello studio di esso. Però, in effetti, anche da un punto di vista, come dire, non è particolarmente bello a vedersi e anche a studiarsi. Non è che ci si debba aspettare chissà quale particolarità dal cervello, però adesso cerchiamo piano piano di andare a vedere come meccanismi, anche apparentemente semplici, che ci possano dare vita a una pletora immensa di comportamenti e cognizioni intelligenti. Ok? Allora, condivido un attimo le slide con voi e procediamo con questa lezione. Allora, dovreste vederla, no? Ci dovreste, si dovrebbe poter vedere le slide? Sì, sì. Grazie, conferma audio. Grazie mille, perfetto. Sì, sì. Allora, io partirò da una considerazione. Cioè, partirò dalla considerazione che per pensare a una mente, intanto, si parte da quel sostrato biologico, cioè da quella base biologica, che permette a un organismo di avere quella che possiamo diamare mente o comunque un comportamento intelligente. Per cercare di rendere più semplice la mia argomentazione, partirò non dal cervello inteso come organo unitario, ma dalla struttura minima che ne costituisce la dimensione fisiologica, cioè la cellula che compone prioritariamente il sistema nervoso. E questa cellula è la ben nota cellula del neurone. Allora, teniamo a mente che il sistema nervoso di ciascuno di noi è costituito da circa 100 miliardi di cellule molto piccole, ma molto particolari nella loro forma, che si chiamano neuroni. Ora, il neurone, questa è una cosa... il neurone è una delle pochissime cellule ad avere un nome suo. Questa è una cosa che a me ha sempre colpito. Noi parliamo di cellule epiteliali, per parlare della pelle, cellule epatiche del fegato, cellule muscolari e così via, e poi parliamo del neurone. Gli abbiamo dato un nome a parte, abbiamo sempre avuto una sorta di profondo rispetto per questa cellula, perché l'avevamo capito che era qualcosa in lei che aveva a che fare con le meraviglie della mente e del comportamento. Però, la verità è che da un punto di vista biologico, un neurone è una cellula come le altre. Sapete com'è fatta, no? Una cellula ha un nucleo all'interno del quale si trovano le informazioni genetiche, ci sono una serie di altri organelli, organoli, ribosomi, altri piccoli apparati che possono essere utili per la normale fisiologia del neurone, per il normale funzionamento della cellula, scusate, non del neurone. E poi, una cosa più importante, diciamo, quello che definisce la cellula come unità minima dell'organismo è il fatto che c'è una membrana. Cioè una cellula è separata dalle altre cellule che gli sono intorno o dall'ambiente circostante da una membrana. Il neurone è uguale, cioè il neurone non ha niente di speciale, non ha degli organelli magici speciali, non ha, come dire, una membrana ricoperta di platini e polvere di unicorni, semplicemente ha una forma che è ipertrofica. In che senso è ipertrofica? Nel senso che se voi andassi e vi chiedessi, guarda, viene alla lavagna e disegna come è fatta una cellula, probabilmente la maggior parte di voi disegnerebbe un tondo, cioè disegnerebbe un cerchio e all'interno di questo cerchio metterebbe il nucleo, gli organelli che si muovono nel plasma, nel citoplasma, e sarebbe un disegno corretto. Il problema è che il neurone raramente ha una forma di questo tipo, perché di solito è caratterizzato da una serie di due estremità, che in realtà vedremo se hanno delle peculiarità specifiche, che servono esattamente a fare, svolgere al neurone la sua funzione principale. Qual è la funzione principale? Il neurone è quella di trasmettere un impulso di tipo elettrico, vedremo. È una di quelle che in fisiologia viene normalmente chiamata una cellula eccitabile. Patate bene, tutte le cellule sono in grado di esibire dei fenomeni o dei comportamenti di tipo bioelettrico. Alcune cellule però, possono essere per esempio le cellule muscole del cuore o il neurone, sono in grado anche di dare una scarica, rispondere con un potenziale elettrico ad alcune sollecitazioni che stanno all'interno dell'ambiente. Per fare questo il neurone è fatto in una maniera particolare, che ora vi sto per spiegare, ma mi permetto soltanto, perché poi ritornerà, perché sennò sembra una definizione molto incompleta, io ho detto il sistema nervoso centrale è fatto da, il sistema nervoso è fatto da neuroni. Il sistema nervoso è fatto principalmente da neuroni, ma ci sono delle cellule, altre cellule che compongono il sistema nervoso, che non sono neuroni e che noi abbiamo sempre chiamato nella storia della disciplina le cellule gliali. Per chi ha fatto il classico ricorderà che glia vuol dire colla? Perché noi abbiamo effettivamente pensato anche un po' per, come dire, somiglianza con quello che si vedeva, con l'analogia con quello che si vedeva, che la glia non fosse altro che una degli ammassi cellulari utili a separare i neuroni tra di loro e a sorreggerli nella loro struttura. In realtà noi oggi sappiamo che le cellule gliali sono fondamentali nel contribuire a un funzionamento corretto del sistema nervoso, alcune cellule gliali per esempio sono fondamentali nel proteggere i neuroni da eventuali traumi, alcuni sono indispensabili per poter eliminare i metaboliti di scarto dei neuroni. Considerate il fatto che le cellule gliali sono spesso coinvolti nei processi infiammatori che danno vita a quelle che chiamiamo comunemente la famiglia delle demenze, tra cui c'è la malattia d'Alzheimer per intenderci. Inoltre poi, lo vedremo, la glia svolge anche un ruolo all'interno della condizione nel momento in cui, scusate il secondo, Ettore, basta. Nel momento in cui svolgono dei ruoli di protezione facilitatrice nella trasmissione del segnale, ma anche di questo faremo modo, insomma, di parlarne fra pochissimo. Ritorno brevemente alla struttura del neurone. Come è fatto questo neurone? Allora, lasciate perdere adesso tutte quante le varie dita scalie che ci sono. La cosa veramente importante da tenere a mente, vedete che in viola qua voi dovreste anche riuscire a vedere, penso, non lo so, datemi conferma con la voce, riuscite a vedere la punta del mio mouse? Sì, sotto il nucleo. Ok, esatto, quello che stai girando intorno al nucleo, esatto, questa cosa che vedete in viola fondamentalmente è il nucleo, ok? Ora, lasciando perdere il nucleo, tenete a mente che la parte del corpo cellulare si chiama proprio corpo cellulare o può essere chiamato anche soma, è un'altra terminologia di uso comune per indicare questa parte del neurone. Dopodiché, le cose veramente importanti da tenere a mente adesso, poi tutto il resto ci torniamo, è che un neurone ha sempre, da un lato, a una delle sue estremità, una serie di ramificazioni che, proprio per la loro forma, simili a quelli di rami di albero, vengono chiamati dendriti, da dendros, che vuol dire albero in greco, quindi i dendriti sono quelli, sono queste ramificazioni a una estremità del neurone. All'altra estremità, anche se questa è una generalizzazione, perché vedremo che dei neuroni ce ne sono tipi diversi, ma nel senso tutti hanno queste strutture qui, c'è una, vi prego di sottolineare questa cosa qui, di ricordarvelo molto bene, beh, è una protuberanza che viene chiamata assone, ok? Allora, la regola generale, poi ci possono essere casi specifici in cui le cose sono un po' più sfumate, anche semplicemente da vedere e da analizzare, perché ora vi darò un rapido glimpse, i neuroni non so, probabilmente tutti quanti assimilabili a questo schema, sono molto complessi nella loro fenomenologia, però tendenzialmente possiamo dire come regola generale che un neurone ha sempre tanti dendriti e ha sempre un assone, ok? Questa è una cosa che fra un po' avrà senso quando cominciamo a vedere come funzionano in rete i neuroni tra di loro, ok? Questa differenza nella struttura è anche ripressa all'interno di un livello funzionale, perché è sempre importante ricordare una cosa, il segnale elettrico, come vedremo è il cuore del funzionamento della vita di un neurone, è quello che il neurone fa, il neurone genera a un certo punto un impulso elettrico all'avverarsi di certe condizioni, questo impulso ha sempre una direzione ben precisa e questa direzione ben precisa è quella che va dal corpo cellulare al termine dell'assone. Alla fine dell'assone, come vedremo dopo, c'è una struttura fondamentale che si chiama sinapsi e dopo le sinapsi segue il o più dendriti di uno o più neuroni successivi. Questi due neuroni, quello che sta prima della sinapsi e quello che sta dopo la sinapsi, noi li chiamiamo spesso, questo è un termine che ritornerà spesso anche dopo quando parleremo per l'appunto della neurotrasmissione, noi li chiamiamo il neurone o la cellula presinaptica, quella che viene prima, che sta sparando il segnale, quella verde praticamente, e quelle che vengono dopo le chiamiamo cellule post-sinaptiche. Ovviamente ogni cellula post-sinaptica può a sua volta avere ulteriori cellule post-sinaptiche, a volte si possono anche creare dei circuiti riperberanti, insomma, voi immaginate che ciascun neurone può fare da noto di una rete che se pensate che sono 100 miliardi, tutto sommato, come dire, se quei 100 miliardi sono i neuroni, figuratevi quanto sono le sinapsi, le possibilità di collegamento, sicuramente ci sono delle matematiche e dei matematici in sala che sanno fare questo conto meglio di me senza rivelare la mia incapacità di fare i calcoli con le potenze rapidamente. Una cosa però interessante, come vi dicevo prima, che al di là di questa struttura unica, noi possiamo distinguere diversi tipi di neurone per la loro morfologia, cioè proprio per come sono fatti. Per esempio, vedete che ci sono dei neuroni che hanno fondamentalmente un solo polo, che per esempio possono essere i neuroni, i meccanorecettori che abbiamo su alcune parti della pelle, che sono delle cellule che si possono attivare, per esempio possono inviare un segnale solo perché arriva una pressione meccanica e poi tramite l'assone inviano il segnale a centri superiori. Normalmente quello che noi chiamiamo neurone di base, il neurone bipolare o il neurone multipolare, insomma sono quelli che avete anche visto nei disegni precedenti, ma ci possono essere anche dei neuroni che sono secondo me, ecco, quelli veramente proprio meravigliosi, come il cosiddetto neurone di Purchini, che è un neurone tipico, è una cellula tipica del cervelletto, che dopo vedremo, il cervelletto fa una cosa essenzialmente, è l'organo che è deputato al controllo fluido e armonico dei movimenti. Eseguire un movimento non è mai una cosa semplice, è solo apparentemente semplice, no? In realtà, io non so se qualcuno di voi suona la chitarra, suona il piano, ma anche semplicemente quando state dattilo scrivendo sulla tastiera, tutti quei movimenti con le dita, a grana fine, precisi e delicati, devono essere fatti secondo anche una temporalità perfetta, no? Cioè devo farli bene, altrimenti mi faccio i refusi, mi mangio le parole. Quella fluidità di movimenti, per esempio, è garantita dal fatto che il cervelletto è fatto tra i neuroni di Purchinie, quindi neuroni che possono prendere i segnali da tanti altri neuroni e rielaborarli e aiutare a modulare un compito che altrimenti sarebbe un compito di coordinazione molto complesso delle attività neuronali più periferiche. Non so se sono già partito per la tangente? Vedo qualcuno così disperato? No? Ancora ci siamo? Ok, posto. I biologi ne vogliono rinciare? Spero di no, vi renderete conto che devo fare una generalizzazione anche visti i tempi. Possiamo distinguere oltretutto i neuroni, per esempio per funzione, questa comincia a essere importante come cosa, perché sono due termini che utilizzeremo spesso, afferente ed efferente. Afferente è tutto quello che porta uno stimolo, un impulso dalla periferia al centro, quindi per esempio dai sensi al cervello. Noi diciamo che sono in gioco dei neuroni sensoriali, perché sono quelli del mio senso, o afferenti, cioè che portano un impulso da fuori, verso dentro. Ovviamente la seconda tipologia incontrata sarà quella dei neuroni efferenti, che sono quelli che raccolgono lo stimolo elaborato nel sistema nervoso centrale e poi lo portano agli organi effettori e quindi essenzialmente gli organi effettori o sono muscoli o sono ghiandole. Pensate a una reazione di tipo di movimento volontario, di movimento involontario come il battito del cuore, oppure pensate per esempio a tutta una serie di reazioni che noi impareremo a conoscere come reazioni omeostatiche o reazioni di stress. Per esempio se mi viene l'ansia comincio a sudare, chi è che ha inviato il segnale le ghiandole sudoripari per far sì che loro cominciassero a farmi imbarazzare, a rovinarmi la camicia? Qualcuno dal centro, in particolare da alcune strutture del cervello, più molto profonde, e hanno inviato questo segnale attraverso dei neuroni efferenti, quindi efferenti dal centro alla periferia. Paolo un secondo solito, faccio l'ultimo, il terzo tipo di neurone diciamo da un punto di vista di funzionalità. Abbiamo poi gli interneuroni o neuroni di associazione che sono presenti esclusivamente nel sistema nervoso centrale, cioè ve lo anticipo adesso tutto ciò che è contenuto nella scatola cranica nella colonna vertebrale, e sono fondamentalmente i neuroni che agiscono da relai e che mettono in connessione altre popolazioni neurali sulla base dell'esperienza, sulla base di una programmazione genetica, e il fatto che questi neuroni formino altri nodi all'interno della rete aumenta, come vi potete immaginare, il livello di complessità del network stesso. Questo è il motivo per cui anche per esempio all'interno di singole unità di programmazione, come possono essere le cosiddette colonne corticali, che vedremo fra un po', ci può essere un alto livello di complessità di segnale, perché è vero che i neuroni possono essere un totto, ma se poi tu li fai ricomunicare tra di loro o costruisci che ti complesse, il funzionamento aumenta in complessità. Paolo, prego. Guardi, guarda, ti potrà sembrare una domanda estremamente banale, quasi stupida. No Paolo, già l'abbiamo detto, perché non ci stanno le domande banali, vai. Mi fa riflettere un po', il fatto che il corpo umano sia un buon conduttore di elettricità è dovuto al fatto che in questo modo facilita gli impulsi dei neuroni ad arrivare da una parte all'altra? No, non è una questione legata ai neuroni. In realtà tutti i viventi sono bioelettrici. Cioè poi nel senso non conosco molto bene la fitologia, nel senso non conosco la fisiologia delle piante, però anche le piante sono sottoposte a dei fenomeni del tipo elettrico. Credo che eventualmente il fatto di essere suscettibili alla corrente sia una conseguenza del fatto che le elettricità giocano un ruolo fondamentale nella vita e che quindi quando prendi la tua eventi la vita ti saluta. Penso che sia piuttosto una conseguenza e non la causa, non so se mi sono spiegato. Poi non so se c'è qualche biologo che ci vuole aggiungere, però io ti risponderei diciamo così, su due piedi. Allora, detto questo però, Paolo ci ha fatto un assist, perché adesso noi esattamente di correnti dobbiamo parlare, esattamente di questioni legate all'elettricità. E vi devo introdurre un concetto che è un concetto che vi prego di non farvi sembrare troppo ostico, perché in realtà è una cosa molto semplice da capire, anche se mi rendo conto io per primo che sono un umanista, ogni tanto quando c'è tutte queste cose c'è il ricordo del libro di scienze, però non vi preoccupate, insomma i colleghi di lettere e filosofia possono stare tranquilli. Allora, il primo concetto che dobbiamo prendere in considerazione è quel concetto di potenziale di membrana, che però non viene mai da solo di fatto, perché è legato per esempio già a un concetto che è quello di potenziale riposo, ma soprattutto il concetto di interno e esterno della cellula. Allora, che significa dire? Sta con secondo... no, ve lo posso anche lasciare così. Allora, tenete a mente una cosa, voi dovete tenere a mente che ogni cellula, lo dicevo prima, ha in qualche modo un suo tipo di rapporto con l'elettricità, perché ogni cellula è capacissima di generare dei potenziali elettrici già a riposo. Infatti, grazie al fatto che la membrana separa l'ambiente interno della cellula dall'ambiente esterno, e quindi questo già di per sé fa sì che la membrana abbia un certo valore, un certo potenziale, ok? Abbiamo detto che il neurone è una cellula eccitabile, insieme a quelle muscolari e quelle endocrine, che significa che non rispondono solo passivamente agli stimoli elettrici, ma possono anche generare una risposta attiva. Questa risposta attiva, lo vedremo, è importantissima per noi che si chiama potenziale d'azione. Allora, se noi consideriamo un neurone qualsiasi, che è quella che vedete, che è sintetizzata in qualche modo anche nella slide che state vedendo in questo momento, se noi inseriamo all'interno e all'esterno di un neurone un elettrodo, ci rendiamo conto che c'è una differenza di potenziale tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno. Questa differenza di potenziale è circa di 70 millivolt, tra i meno 65 e i meno 70 millivolt. La differenza di potenziale tra l'interno dell'esterno, a che cosa è dovuta? È dovuta al fatto che la membrana della cellula mantiene una serie di ioni, quindi cellule che hanno una carica positiva o negativa, da una parte o dall'altra della membrana stessa. Quindi per esempio c'è una situazione, questa voi vedete, non so se ve lo ricordate, per l'appunto dal libro di scienze, questa cosa che sto attraversando col mouse è la membrana, lo vedete perché è fatta da queste strutture di grasso, di lipidi. Ora sulla membrana, sulle membrane... Non abbiamo la condivisione dello schermo proprio. Che dici, che dici? Non abbiamo la condivisione dello schermo, quindi quando indicano... Io sì, lo vedo. Io lo vedevo però. Vabbè, lo rimetto, lo rimetto. Io lo vedevo. Io approfitto per chiedere se potete solo un po' più piano. Sì, scusate. Ecco, lo vedevo. Grazie. Scusate, ragazzini, adesso ci vedete, no? Allora, questa parte qui è la membrana, ok? Ora, sulla membrana ci sono una serie di strutture molecolari, diciamo che tecnicamente possono essere considerate degli enzimi, che si occupano di spostare avanti e indietro in determinate situazioni gli ioni, cioè, per esempio, farli travasare da una parte all'altra. Questo, lo vedremo, è il meccanismo che genera il potenziale d'azione. Essenzialmente, non so se questo si vede, però penso che voi riusciate a vederla, questa cosa che vi sto mostrando adesso. Sì, si muovono. Essenzialmente questa è la pompa più importante della membrana del neurone e si chiama pompa sodio-potassio. Perché? Perché è proprio attraverso lo spostamento degli ioni di sodio-potassio attraverso la membrana che si genera un potenziale elettrico, che è il potenziale d'azione. Ora lo vediamo bene un attimo nel dettaglio. Solo un'ultima cosa, ormai è diventato un grande classico di questo corso. Io ogni volta dico, se vi volete rendere conto di qual è il ruolo del sodio nell'attivazione dei neuroni e avete anche dei bambini piccoli che volete traumatizzare a vita e quindi, come dire, entrare nell'associazione dei benemeriti degli psicoanalisti, potete andare in pescheria e comprare un calamaro fresco. Se comprate un calamaro abbastanza fresco e ci mettete sopra della salsa di soia, quello che ottenete è questo. Perché il sodio, a un certo punto, del sodio che sta all'interno della salsa di soia, di soia attiva e fa scaricare, cioè simula i potenziali d'azione, in questo caso nei neuroni che avete imparato a essere neuroni efferenti perché stanno facendo muovere il calamaro e voi ottenete questa scena che è estremamente edificante dal punto di vista della conoscenza, del valore conoscitivo rispetto alle neuroscienze che può anche rappresentare effettivamente un trauma da 30 anni delettino per i vostri nipotini. Questo non si può mai sapere voi. Ma anche per me? Anche per me, no, Ilaria. Tu sei grande, non dovresti avere passato questa fase. No, no, io con i poli, con i tentacoli, non c'ho proprio... No, no, mi riscaldi, Mattino. Va bene, anche io. Comunque questa è una classica modalità. Lo tolgo perché non mi immaginavo che fosse così sensibile. però sappiate che è anche una modalità di presentazione del cibo molto, molto diffusa nell'estremo oriente. Quindi, insomma, state attenti quando fate un viaggio sennò poi pensate che c'è un club desatici guidati da me che vuole fare queste cose solo per terrorizzate. Allora, c'è anche da tenere a mente un'altra cosa, ma questa... Posso dire che da Calabrese ho quasi apprezzato. Hai apprezzato? No, ma anche io ho apprezzato. Guarda, perché il calamaro... Io da Calabrese non ho apprezzato. Beh, ragazzi, noi non cominciamo a fare cose di campanilismo come fate in Alamare, apprezzato e apprezzato. Poi ne parliamo dopo. C'è stata brutta la questione dello specismo pure. Perché io, visto, mi stavo a lanciare. Stavo già dicendo, però il calamaro è boppa. Mi sono fermato, non si sa mai. Il calamaro è boppa. No, no, intanto si scade in mirà. Sa, badate i calamari, top. Eh, lo so. Ma funziona su quello scongelato? No, su quello no, perché è già... Su quello no, sennò avremmo andato, avremmo traumatizzato molte più persone, ma no, perché andare sotto zero lo spacca le strutture neuronali e quindi a un certo punto non funzionano più. Però ho scoperto che mettere nel freezer il polpo intero è un ottimo metodo per fare il polpo astutato degli spagnoli, quello che lo sbassano contro il tavolo. Se volete evitare di fare questa scena cruenta, potete solo infiliarlo nel freezer, il freezer spaccherà tutte le fibre muscolari e verrà tenerissimo. Ma questo, insomma, come dite, non so quanto sia attinente, ma già che ci stavamo. Allora, dicevamo, potenziali graduati e potenziali d'azione li potrei anche fondamentalmente saltare, cioè perché vorrei concentrarmi solo sul potenziale d'azione. Perché il potenziale d'azione è un fenomeno fisiologico estremamente particolare, che è quello che si è esattamente attivato nel momento in cui, attraverso una forzatura delle pompe sodio-potassio, con la salza di soia, abbiamo innescato una risposta attiva della cellula. Ora, se noi misuriamo con degli strumenti elettrofisiologici il potenziale d'azione nelle cellule nervose, e questo è importante che voi lo capiate, noi otterremo sempre questo tipo di figura qui, cioè questo tipo di curva qui. Infatti questa è la curva del potenziale d'azione, che tra l'altro è simile in moltissimi neuroni di mammiferi, fondamentalmente in tutti i mammiferi. Che cosa succede? Quando la cellula, per dei motivi che possono essere o di natura strettamente biochimica, come abbiamo visto anche innescati dalla soia prima, o per motivi legati a specifiche sostanze interne al cervello, che fra poco impareremo a conoscere, si chiamano neurotrasmettitori, e che sono l'altra grande componente della trasmissione di segnale nervoso, a un certo momento la membrana del neurone, che noi abbiamo detto prima, ritorno qui col mouse, noi abbiamo detto che di solito il potenziale di riposo è questo qui, sta a meno 70, circa a meno 70 millivolt. Ora, se per dei motivi chimici, come nel caso di una stimolazione diretta, di agenti di neurotrasmissione, o per motivi anche elettrici, io potrei anche depolarizzare una membrana in altre maniere, per esempio con una stimolazione elettrica diretta, se il potenziale della membrana che sta a riposo a meno 70, arriva a questo livello qua, che è circa meno 50 millivolt, per intenderci, forse un po' di meno, arrivato a questo punto succede un fenomeno particolare, questo è il punto in cui noi chiamiamo soglia di depolarizzazione. Cioè, che succede? Succede che se la membrana arriva qui come potenziale, a un certo punto noi vediamo un'immensa attività di depolarizzazione, che è questo picco qua, che non so se vedete, non so se riuscite a seguire dove va col mouse, no? Sì, sì. Ma questa qua è la depolarizzazione, arriva di colpo a più 50 millivolt, questo è quando noi diciamo che un neurone sta sparando, ha sparato, quando ha sparato significa che arriva a 50 millivolt, dopodiché la curva riscende con altrettanta rapidità, e succede una cosa che adesso vi può sembrare scema, ma che è molto interessante anche per le sue conseguenze. Cioè, per un breve periodo il potenziale della membrana diventa ulteriormente polarizzato, cioè addirittura scende sotto i meno 70 millivolt, e poi si riavvia placidamente per ritornare a quello che è il potenziale a riposo della membrana, ok? Ora, perché questa cosa ha una serie di conseguenze importanti? Essenzialmente per due motivi che è assolutamente centrale che voi conosciate. La prima è che un neurone spara sempre seguendo una legge che Lord Edgar Adrian agli inizi del Novecento chiamò la legge del tutto o del nulla, il principio the all or nothing principle. Che cosa dice la legge del tutto e nulla? Dice una cosa che è importante che voi adesso capiate bene. Un neurone o spara o non spara. Cioè, o un neurone emette un potenziale d'azione seguendo esattamente questa curva qui che abbiamo visto oppure non lo farà. Se la membrana arriva a meno 50 millivolt il neurone comincia a depolarizzarsi rapidamente e dà vita al potenziale d'azione che dà a sua volta vita a una catena elettrica lungo tutto l'assone e il neurone o lo fa o non lo fa. Perché è così importante da tenere a mente? Perché uno potrebbe dirsi beh, ma allora se io per esempio appoggio dedicatamente un dito sulla mia tempia e invece l'appoggio forte un dito sullo stesso punto aumenta l'ampiezza della corrente generata. No. Un neurone può scaricare solo in un modo. Da questo punto di vista è fondamentale comprendere che il neurone all'interno della sua struttura cioè proprio dentro al neurone è digitale. O è zero o è uno. Non ci stanno mezze misure. Ok? Questa è una cosa veramente importante che voi lo comprendiate. Non fosse altro perché per esempio su questo assunto ci si è basata poi tutta quanta a una certa corrente di intelligenza artificiale. No? L'idea di poter assimilare un computer a un cervello è perché se il neurone faceva o zero o uno è bene pure anche le costruzioni in silico sono in grado di fare acceso o spento è il sistema di funzionamento di base delle macchine. In realtà poi le cose sono estremamente più complesse con i neuroni però è importante ricordare che da un punto di vista di funzionamento della singola cellula il neurone funziona esattamente così o è acceso o è spento o spara o non spara. Che cos'è che cambia allora eventualmente tra quella pressione leggera che facevo contro la pelle della mia tempia è una pressione forte contro la pelle della mia tempia. Beh, per esempio quello che può cambiare è la frequenza di fire il fire rating cioè quante volte il neurone spara all'interno dello stesso periodo di tempo che anche quello in qualche modo anche se è vero che come dire la frequenza di emissione del segnale può anche essere molto alta però anche quello se ritorniamo al disegno di qui sopra vi renderete conto facilmente di una cosa cioè un neurone ha sempre un periodo in cui la membrana è iperpolarizzata che cosa se mi succede non dura tantissimo dura circa 4 millisecondi in generale vabbè stavo per fare una battuta brutta non la farò in quel periodo là abbiamo un fenomeno che si chiama qualcuno l'ha capito tra questa battuta abbiamo quello che viene chiamato il periodo refrattario cioè è il periodo in cui il neurone non può sparare il neurone non può riemettere un potenziale d'azione questo è fondamentale da capire perché il neurone si deve riposare è importante che il neurone si riposi e comunque si riposerà a prescindere da quanto voi proviate a sforzarlo durante questa fase di iperpolarizzazione il neurone non può sparare questo è il detto periodo refrattario adesso un'altra cosa importante da tenere a mente e che ancora come dire ci fa restare all'interno della comunicazione interna al neurone è che io ho detto prima che quando il neurone emette questo cioè emette questa depolarizzazione forte slungo la membrana scusate torno tra i vari tra le varie slide così vi rendo tutto più facile da capire a un certo punto si genera nella membrana un fenomeno di tipo citatorio in grado di generare un potenziale di azione e a prescindere da dove si sia formato questa prima onda a un certo momento la scarica elettrica comincerà ad attraversare il neurone in questa precisa direzione cioè muovendo verso la fine dell'assone ora c'è un problema cioè c'è un problema che è un problema anche importante in realtà vorrei fare un piccolo sondaggio oggi ho scoperto oggi l'ho fatto uno al convegno ho capito perché non l'ho mai sfruttato questa cosa qua può alzare possono alzare la mano di teams gli ingegneri un anno senza ingegneri ragazzi completamente abbandonato vabbè qualcuno Francesco Francesco ok grazie Francesco non so che tipo di ingegnere sei però tendenzialmente una cosa che voi ci sapete insegnare bene che noi comuni mortali riusciamo a comprendere un po' di meno è che i cavi questa fantastica stregoneria che dovrebbe collegarci con il mondo in realtà quando trasmettono il segnale hanno sempre un certo rischio di perdita tutti i cavi hanno un certo rischio di perdita del segnale soprattutto quelli elettrici se tu fai un filo molto lungo che ovviamente potrebbe essere meno protetto comunque anche semplicemente la dispersione della lunghezza il segnale grazie Michele siete almeno due insomma ci dobbiamo cercare di fare compagnia anche con parti disciplinari a un certo punto noi dobbiamo in qualche modo preservare la capacità che ha un segnale di disperdersi lungo il suo tragitto ok che cosa abbiamo inventato noi come tecniche abbiamo imitato senza saperlo quello che aveva fatto la natura cioè noi abbiamo deciso che intorno a un cavo se ci mettevamo un tubo isolante se ci mettevamo un materiale isolante la trasmissione del segnale lungo il cavo veniva preservata tra l'altro non so se sapete questa è una cosa a me mi ha sempre fatto studiare come come storico fu Kelvin a un certo momento a occuparsi questo problema a Lord Kelvin e si si fece questo problema e a partire dalle sue considerazioni che non erano assolutamente legate alla neurofisiologia noi poi ci abbiamo tirato fuori i primi modelli neurofisiologici di funzionamento del segnale nervoso perché dico perché vi ho parlato delle guaine isolanti dei materiali isolanti perché in realtà anche i neuroni hanno il loro materiale isolante e in particolare è dato questo materiale isolante dal lavoro che svolge una particolare cellula gliale che è questa che vi sto per fare vedere qua l'avete incontrata prima la vedete l'oligotendrocita ok l'oligotendrocita che fa quella si mette vicino al neurone e sbava una guaina lipidica che avvolge l'assone del neurone e che noi chiamiamo mielina questa è una parola che probabilmente avete sentito già abbastanza spesso perché avete sentito spesso la mielina perché tutti conosciamo tragicamente il nome della malattia che è data dalla demielinizzazione delle fibre nervose parla della sclerosi ok tant'è vero per esempio ho una mia carissima amica e collega che si è ammalata ad un certo punto di SLA e una delle terapie sperimentali a cui fu sottoposta fu un farmaco che era in grado di mettere una specie di mielina artificiale intorno ai neuroni in effetti anche con dei grandi con dei grandi risultati no però è importante tenere a mente che la mielina è in effetti non soprattutto una protezione di tipo fisico da quello che sta all'esterno dell'ambiente cellulare della membrana del neurone ma è anche e soprattutto un modo per mantenere forte e chiaro il segnale elettrico che si sta trasmettendo da dove si è generato fino al termine dell'assone stesso la natura però è ancora più ingegnosa dei nostri pur acclamatissimi ingegneri e si è inventato un sistema per evitare che un segnale si potesse disperdere magari su lunghi tragitti voi dite ma lunghi tragitti ma quanto saranno lunghi questi assoni considerate che alcuni assoni di neuroni che muovono o che sentono la punta dei nostri piedi e le caviglie hanno un assone di circa due metri dentro al vostro corpo c'è una cellula che ha due metri di assone ok ora voi immaginate io penso già su due metri certe volte io fatico pure col cavo di rire a casa due metri a far funzionare le cose voi immaginatevi una cosa che lancia un segnale che è sempre lo stesso di cui stiamo parlando circa di una differenza di potenziale di 110 millivolt quindi non è che sia una cosa particolare una corrente particolarmente imponente deve viaggiare per un filo sottilissimo di due metri che ha fatto la natura per cercare di tutelare cosa ha fatto l'evoluzione per cercare di tutelare questo tipo di trasmissione ha dato vita a quella che noi chiamiamo la conduzione saltatoria infatti se voi andate a vedere la mielina intorno ai neuroni vi renderete conto che ci sono delle aree che non sono mielinate cioè delle aree in cui questa guaina lipidica non ci sta i punti in cui non c'è la mielina hanno un nome specifico dal neonatomista che l'ho descritti la prima volta e si chiamano nodi di rambier che cosa succede nei nodi di rambier nei nodi di rambier c'è una parte della membrana che può essere sottoposta e quindi sottoporre lo stimolo che si sta muovendo a un'ulteriore depolarizzazione quindi in qualche modo è come se in quei punti il segnale si potesse rigenerare per poter arrivare alla fine del suo viaggio questo è il motivo per cui apparentemente sembra che il segnale salti da un punto all'altro ed è il motivo per cui questo tipo di conduzione nervosa viene chiamato tecnicamente la conduzione saltatoria ok? ci siamo su questo? detto questo poi però entriamo in pausa 5 minuti detto questo che succede quando il segnale nervoso arriva al termine dell'assone? succede che al termine dell'assone c'è uno o più perché l'assone è uno solo ma alla fine comunque si può aprire una specie di manina anche se molto piccola in estensione si arriva a una struttura che è chiamata bottone presinaptico di cui ci occuperemo tra pochissimo dopo la pausa perché dobbiamo introdurre questo concetto fantastico che è il concetto di sinapsi quindi ci sono domande su quello che ci siamo detti finora professore mi scusi? sì prego cioè scusami ma all'esame no? sono che sono entrato al primo del manico ma all'esame noi dobbiamo ripeterlo bene bene tutto questo perché io mi sto veramente io mi sto a perdere il tutto no allora guarda non siete no a parte ti do un consiglio non fa mai una domanda del genere da un professore perché so io non di male dobbiamo ripetere tutto? perché loro dici sabito sì no non lo dovete ripete ferma calma 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 no allora io ho bisogno che voi non ti entra nel panico non mi ricordo un cavolo non ti entra nel panico ma è la prima volta che lo studi ti preoccupavo io la prima volta lui è laureato in questo ci spiego quindi ci sai che lui sappia a memoria io la prima volta che ho letto no è che mi sto entra nel panico perché faccio pure la prima volta la prima volta che ho letto e che l'ho pensato da un disturbo dell'apprendimento quindi non ti preoccupare sono cose che succedono non ti devi preoccupare e è molto più difficile di questo no allora io non pretendo che voi diventiate né dei neuroscienziati né dei neonatomisti io ho io pretendo che voi comprendiate una cosa che dà un organo così se volete anche sempre quello che vi ho detto sembra difficile ma in realtà riassunto è questo ci sono una classe di cellule che sono in grado di generare degli impulsi nervosi se succedono delle cose intorno a loro questo è possibile perché la membrana fa in modo di generare un potenziale ok e questo potenziale viene scatenato dal fatto che o il neurone è entrato in contatto con alcune sostanze o perché è entrato in contatto con l'attività di altri neuroni ok quindi è la membrana quella la membrana la membrana è fondamentale è sempre la membrana che è fondamentale perché è con lei che riporta gli input o dall'esterno oppure fa elaborare l'impulso con l'interno è quella che si accorge d'altra parte pensaci che cos'è la membrana di una cellula è il suo confine esterno con cui interagisce con il mondo ok quindi la membrana è quella che capta se sta succedendo qualcosa fuori e nei neuroni un lungo processo di evoluzione fisiologica ha fatto sì che i neuroni si siano specializzati nel rispondere generando altri segnali ancora se arrivano segnali di un certo tipo ok questi segnali ma un esempio allora io ho la penna sul tavolo sì il fatto che io cioè il semplice gesto di alzare la mano prendere la penna e poi rilasciarla potrebbero essere due input o poi cioè in questo lavoro di prendere e lasciare la penna è comunque un lavoro cioè fa parte comunque di questi input cioè l'input di prendere la penna l'input di lasciare la penna c'è una Cristina allora non fare non fare confusione perché se la risposta della domanda mi stai facendo è in qualsiasi cosa che io faccio da un movimento volontario a un pensiero che mi viene in testa a una musichetta che canto sono i neuroni che si comportano così che me lo fanno fare la risposta è sì la risposta è sì ma nel senso quello che voglio dirti ora dopo ti diventerà più chiaro dopo la seconda parte della lezione tu bevi il caffè a voglia sì sì a voglia no e il caffè è una droga potentissima come saprai che cosa perché dopo che hai bevuto il caffè ti senti così che stai più attiva che ti sei risvegliata che cosa è successo è successo che il caffè c'aveva una proprietà taumaturgica magica no è successo semplicemente che la caffeina è in grado di stimolare di far lavorare più velocemente alcuni neuroni è un po' volgare così ok se ti prendi l'LSD cominci a vedere visioni perché cominci a vedere visioni perché ci sono una serie di squilibri chimici nel tuo cervello che fanno attivare delle aree che normalmente non si attivano o le fanno attivare in modo diverso quindi tu interagisci col mondo in maniera diversa tutto tutti i fenomeni mentali hanno una base biologica che è data da questi semplici meccanismi ok che sono adesso semplici perché sono o acceso o spento è importante però capire questa cosa qua perché altrimenti non riesci a capire come mai io a un certo punto posso dire il cervello quando si attiva l'area del lobo frontale sinistro stai muovendo la bocca o muovendo la mano destra ok perché se invece io ti dico quando muovi la bocca che cosa è successo il tuo cervello si è attivato con questo sistema per trovare le associazioni delle parole che volevi dire e mandare a un'altra rete che è quella del motoria del linguaggio l'impulso a dire guarda devi di ste vocali qua e ste vocali qua si fanno muovendo la bocca proprio come la muovi adesso ok tutte queste cose avvengono su una base che è la trasmissione di impulsi nervosi tra i neuroni quindi l'importante non è che te chiedo ti ricordate questa soglie polarizzazione quanto è che la differenza tra se te lo ricordi è meglio però insomma non è che è morfendo se non ti ricordi la differenza tra un neurone bipolare e un neurone multipolare non fa niente insomma non è un esame di neuroscienza questa è la prima parte del corso è la prima lezione vera del corso non lo preoccupate le cose difficili stanno dopo Cristina questa è una passuggia delle salute no scherzo scherzo Aurora si prof a un certo punto per me sembrava tipo metafisica non ho capito più in che ambito stavamo perché dimmi spiegami quando ha fatto l'esempio del dito no che mette la pressione si non so se mi sente perché ho la connessione pessima quando ha fatto l'esempio del dito facciamo pressione ha detto che può cambiare la frequenza giusto non cambia invece il volume di che cosa non ho capito quella parte lì guarda guarda rifaccio vedere le slide allora ti rifaccio vedere le slide te lo spiego con estrema facilità guarda grazie adesso qua dovete fare questo è importante che voglio facciare allora il potenziale d'azione è sempre questo qua no ok che vuol dire vuol dire se il neurone spara il salto che fa in termini di ampiezza del segnale cioè in termini proprio di spostamento tra valori decorrente è sempre questo va sempre da meno 70 più 50 ok ci stai su questo Aurora ok sì 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 perché lo spara o non spara era quello il concetto lo spara o non spara e quando questo per farti un'analogia con il 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 il neurone quando spara spara sempre così ok non può sparare così ok può sparare solo così e non può neanche sparare più piano può sparare sempre sempre questo suono qua ok poi c'è una questione ok lo stesso neurone fermo restando che ogni neurone ha un periodo refrattario in cui uno spara il neurone che spara sempre a sto volume qua può sparare così oppure può sparare così ah ok chiarissimo cambia in frequenza del fatto che quello fosse il volume eh no il volume l'ampiezza è il termine tecnico perché quella è l'ampiezza d'onda ok hai capito però adesso qual è la differenza chiarissimo il punto è che non può mai aumentare l'ampiezza o diminuire l'ampiezza il suono sempre quello è solo la frequenza solo la velocità esatto un neurone che stimola di più batterà più velocemente e uno che stimola di meno batterà più lentamente ok semplicemente ok grazie mille prego Giorgia abbiamo detto che intorno all'assone c'è la guaina mielitica giusto? mielinica mielina con la n mielina ok mielina ok che impedisce la dispersione dell'impulso del segnale ok e poi ci sono i nodi tiranvie non ho capito a che servono cioè qual è la loro funzione allora pensa a quella cosa che stavo dicendo prima a Cristina no? qual è l'unico punto in cui si può generare un potenziale qual è l'unica struttura che può generare un potenziale d'azione? la membrana no? ok è la membrana che muovendo che muovendo gli ioni tramite la pompa sodio-potassio può decidere di dare vita a una nuova depolarizzazione ci sei? se io ho un tragitto molto lungo è conveniente che io lungo quel tragitto lasci una specie di stazione di servizio in cui la membrana che è scoperta può eventualmente ridepolarizzarsi e quindi ridare impulso al segnale che continua a propagarsi fino alla fine dell'assone è una specie di punto in cui può riavvenire lo scambio di ioni e quindi il segnale può andare avanti perché la membrana si ridepolarizza hai capito? ah sì sì ok sì avevo capito allora tutt'altro ok ok adesso ci sono meglio così che ci siamo chiari a posto quindi professore la membrana che si ah no scusi scusi no dì se è su questo se è su una membrana allora quindi da quello che ho capito la membrana è quella che trasferisce l'input gli input esterni all'interno e non trasferisce gli input trasferisce gli ioni cioè trasferisce delle particelle caricate elettricamente da una parte o dall'altra ok trasferisce gli ioni e dopo ovviamente da quello che ho capito questa membrana ha un periodo di riposo e dopo quando si ricarica pronta per far rilavorare questi ioni è il periodo che passa dalla no non ho capito potenziale di riposo potenziale di azione che spara poi periodo refrattario che dura 4 millisecondi e poi di nuovo potenziale di riposo poi pensaci no se io ho una pressione meccanica la pressione meccanica di qui sopra io mi paro e il neurone si attiva poi entra nel potenziale entra nello stato refrattario quindi non può sparare poi ritorna allo stato di riposo però c'è stato ancora il dito mio quindi rispara un'altra volta e ricomincia così fino a che non torgo il dito capito che vuol dire il fatto che c'è questo segnale qua poi ragazzi non vi c'è andate a ingrippare veramente è un livello molto semplice nel senso non serve neanche capire questo qua perché chissà poi che si capisce è tutto nel complesso quindi state tranquilli ora lo riprendiamo Paolo senza premesse vai senza premesse alla domanda tanto è una bella domanda vai no 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 più che altro qui devo chiederti di rispondermi fin quanto è tua competenza oddio metti così metti in difficoltà io già vengo da Manchester United Roma c'è già c'ho il complesso d'inferiorità vai non ti preoccupare assolutamente volevo chiedere il motivo per cui determinati esami del sistema nervoso tipo elettroencefalogramma si fanno sotto sforzo è dato da questo tipo di fattore ovvero il potenziale d'azione il potenziale al riposo allora non è l'elettroencefalo che si fa sotto sforzo è l'elettrocardio che si fa sotto sforzo però sì però la risposta è sì perché perché per esempio quando devo fare un elettrocardiogramma perché lo faccio sotto sforzo perché devo vedere se a un certo punto dell'attività globale elettrica del cuore c'ho dei momenti c'ho delle anomalie l'elettroencefalogramma farlo sotto sforzo non ci avrebbe molto senso perché è una misurazione indiretta a meno che non stai a misura dei potenziali avvocati ma allora più che sotto sforzo lo fai legato a un compito specifico però sì la risposta è sì quando fai un esame sotto sforzo di tipo elettrofisiologico lo fai però per vedere se all'attivazione generale di una certa serie di stimoli elettrici c'è qualcosa che non va quindi sì la risposta è sì ok Folco sì io volevo chiedere come appare la membrana quando il neurone non può emettere un potenziale d'azione quando come cioè non può nel senso che sta nel periodo refrattario che non può perché non sta sforzando sì 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 esattamente nel periodo refrattario in che senso come appare la membrana non capisco mi sembra ora non so se mi ricordo male che ha detto che c'era un periodo in cui la membrana era iper era iperpolarizzata è iperpolarizzata cioè c'è troppi segnali c'è una differenza più ampia dei normali meno 70 millivolt ok sta di solito verso i meno 80 quello è un periodo in cui è iperpolarizzato non penso che la membrana cambia come dire cambi look cambia apparenza fisica cioè cambi manifestazione fisica poi non lo so dovremmo chiedere a un neurofisiologo ma penso che sia no è semplicemente un momento in cui non funzionano le pompe sodio-potassio cioè il neurone si rifiuta di fare lo scambio tra ioni per rifare partire il potenziale dura molto poco ma serve per l'appunto a ribilanciare gli ioni mantenendo un normale metabolismo del neurone quindi se vuoi vi posso ritornare alle slide non so se c'è una apparenza differente so che sicuramente se lo guardi con l'elettrofisiologia ti accorgi che il suo ti accorgi che il suo potenziale sta sotto cioè sta sopra i meno 70 sta verso i meno 80 è iperpolarizzato ok e poi piano piano in questi 4 millisecondi si riavviglia a ritornare stabile sui meno 70 e a partire da quello poi diventa pronto per generare un nuovo potenziale d'azione e quindi ridare vita all'attività della pompa sodio-potassio l'ho spiegato? sì sì chiarissimo grazie prego grazie confermo professore confermo quanto ha detto a livello biologico sono un biologo quindi chiedeva conferma grazie grazie caro grazie che con voi lo sapete io purtroppo c'è nel senso io ho una profonda stima per tutte le vostre professioni solo che con la psicologia è prezzemolina quindi parlate tutto un pochetto e mi rendo conto quando ho un auditorio fondamentalmente di colleghi che siamo quasi coetane insomma molti di voi hanno il dottorato di ricerca chiedo sempre giustamente per umiltà chi ne sa di più insomma aiuti mettete la rocca ci aiuteremo a vicenda grazie mille Graziana resti tu prima di questa pausa grazie è opportuno apprendere una lingua straniera prima che avvenga questo periodo critico che sarebbe la mielizzazione se ho capito bene cioè nel senso la mielizzazione è una tempistica di anni questo non cioè nel periodo della nostra vita no allora aspetta stai facendo stai mischiando due cose non so perché ti è tornata così la mielinizazione è una cosa che ha a che fare con la fisiologia delle cellule neuronali ok e ha a che fare con il loro funzionamento ci sono dei momenti nel neurosviluppo in cui i nervi cominciano a mielinarsi ok però questi non coincidono necessariamente con quei periodi critici che sono i periodi critici per esempio dell'apprendimento del linguaggio quello che va da circa due anni fino a circa cinque anni e mezzo il fenomeno che tu vuoi chiamare in causa Graziana è la plasticità nervosa non è la mielinizazione è il fatto che il cervello può modulare rimodulare ricablare se stesso alla luce dell'esperienza e può farlo per alcuni compiti specifici in periodi specifici che si chiamano aree critiche o periodi critici tipo quello del linguaggio ok ma vale anche per altre cose e in generale diciamo che gli esseri umani sono più plastici entro i 18 anni d'età però comunque un minimo di plasticità rimane anche dopo per esempio io ho letto Hegel dopo i 18 anni nonostante mi sia sentito un deficiente alla fine dovrei credo di averlo capito un minimo come queste cose qua cioè voi ne uscirete fuori da questo corso che avrete imparato cose nuove quindi significa che comunque un apprendimento e quindi una plasticità legata all'apprendimento c'è anche dopo è chiaro che per esempio alcuni compiti come imparare una lingua una lingua seconda è molto più facile entro i 5 anni di vita imparare il violino è quasi impensabile dopo i 9 anni di vita 10 anni di vita perché proprio ormai le strutture dell'articolazione fine della mano è come dire se sono un po' ormai si sono irrigidite è vero che noi siamo sempre plastici è vero che rispetto a qualsiasi altra specie di mammiferi siamo plastici o di annali per quanto valga siamo molto più plastici però a un certo punto come dire anche noi ci dobbiamo irrigidire la Costituzione questo è per esempio il motivo per cui tu difficilmente puoi chiedere a una persona anziana di essere flessibile sulle sue abitudini sono 50 anni che fai cose così neanche ci pensi più a farle in un'altra maniera ok mentre per esempio un bambino se tu lo esponi a una casa in cui si parla 5 lingue quello comincia a parlare 5 lingue ok comunque di questo ne parliamo alla fine della lezione di oggi la plasticità è un po' la chiave di lettura finale ok ok grazie allora ci facciamo sui 5 minuti che dite ok ci vediamo ci vediamo tra un po' ciao ciao